È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'accesso al contributo economico concesso ai cargiver familiari finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza. L'avviso è rivolto ai comuni della zona sociale 7 con Gubbio Capofila, Guadotadino, Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo e Scheggia Pascelupo. Possono risultare beneficiari del contributo coloro i quali svolgono funzioni di assistenza di familiari o conviventi di fatto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sono autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé. Siano riconosciuti invalidi in quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata o siano titolari di indennità di accompagnamento. Per coloro che hanno ISEE inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo sarà pari a 3.000 euro annui. Per ISEE, tra i 25.000 e i 35.000 euro, sarà di 2.400 euro al massimo. Per la zona sociale ISEE è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 23.775 euro. Le domande compilate in ogni parte, compreso il patto per la cura, devono essere presentate entro il prossimo 28 marzo. L'avviso è volto al sostegno dell'attività di cure d'assistenza, effettuata su base volontaria non professionale, dal caregiver familiare, ovvero di colui o colei che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza allo scopo di favorire il mantenimento al proprio domicilio.